Sabato 20 luglio e domenica 21 luglio a Fanadriano si rinnova il premio intitolato a Don Giuseppe Zilli, presentato in Regione. Abruzzese d'Occa di Fanadriano appunto è stato il direttore di Famiglia Cristiana, cadiretto dal 1954 al 1980, anno della sua morte. Un personaggio molto amato che ha rivoluzionato l'editoria. La sua era infatti è stata caratterizzata dalla professionalizzazione del giornale, che è arrivata a vendere più di un milione di copie con una grande apertura al mondo laico. Famiglia Cristiana oggi è un punto di riferimento. Il premio è realizzato dall'omonima associazione nel suo paese di origine, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, sostenuto dall'USRC e dal Comune. Sono cinque le sezioni, carta, televisione, web, radio e carriera. La giuria è composta dal presidente Marcello Sorgi, da Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, dal presidente dell'Ordine Stefano Pallotta, da Simone Gambacorta, direttore del premio, e da Maria Teresa Melli, giornalista. La Regione ha riconosciuto l'importanza del premio, sostenendolo con un'apposita legge. I vincitori di questa edizione sono per il giornalismo cartaceo, Anna Zafesova, Nello Rega per il giornalismo televisivo, Maria Lula Saramorgia, premio alla carriera, Enrico Galletti per il giornalismo radiofonico, Valerio Nicolosi per il giornalismo web, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, premio speciale. Nonostante il fatto che abbia dato così impulso alle vendite di questo giornale, lo ha anche, come dire, modernizzato dal punto di vista del linguaggio. Quindi è stato molto vicino alle persone, alle persone umili, alle persone che chiedevano consigli. Una delle rubriche più importanti di questo giornale è la lettera al direttore, che lui curava personalmente in maniera meticolosa e rispondeva praticamente a tutti. Per cui celebrare questa figura è un passo importante per un comune come Fano Adriano, dove lui è nato e cresciuto. Qualità molto alta a merito della giuria, guidata anche quest'anno da Marcello Sorgi. Un lavoro intenso che è durato diversi mesi, perché le valutazioni comportano del tempo. Il tutto per un progetto che giunge alla sua terza edizione, che vuole radicare sempre meglio a Fano Adriano, ma anche fuori dall'Abruzzo, la memoria di Giuseppe Zilli. Sabato 20 luglio a Fano Adriano ci sarà appunto la serata finale con le premiazioni, che sarà presentata dalla giornalista Monica Setta. Domenica poi tante altre iniziative. Siamo arrivati alla terza edizione di questo importantissimo premio giornalistico nazionale di Giuseppe Zilli. Per Fano Adriano, ma per l'intero territorio dell'Alto Momano, diciamo io vado oltre, nella provincia di Teramo, è già un'eccellenza. Siamo alla terza edizione, abbiamo mostro i primi passi, cominciamo a camminare da soli e quindi ogni anno è raggiungimento di un obiettivo. Grazie a tutti.